E invece di investire 2,3 miliardi di dollari nella ricerca dei modi per eliminare i rifiuti nucleari, il Governo federale con solo 500 milioni di dollari otterrà, dove ha messo il foglio? Comunque, come disse una volta Albert Einstein, nulla si crea, nulla si distrutte. Ok, avete mai fatto una lezione così? Sinceramente, non lo diciamo nessuno. Cosa è mancato appunto in quel caso? È mancato presumibilmente un corretto uso del paraverbale né del non verbale, unito chiaramente anche al verbale. Nel senso, certo posso parlare di argomenti abbastanza difficili, abbastanza, come abbiamo detto, diciamo pallosi, nessuno mi obbliga a farlo nella maniera più pallosa e difficile possibile. Ok? Quella è un po' l'arte della comunicazione. Entriamo sul livello superiore, cioè capisco cos'è la comunicazione e voglio usarla bene.